Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video slime oggi testiamo le vostre ricette questa ricetta di oggi è di Michela che ringrazio, qui mando un bacio se anche tu vuoi che realizzi il tuo video personalizzato e stiviti al canale, attiva le notifiche metti un bel like e lasciami un commentino qui sotto e incominciamo subito il video di oggi è con il dentifricio quindi andiamo a mettere il dentifricio io utilizzo il Densaxan Sensitive comunque un dentifricio bianco e lo andiamo a mettere all'interno della nostra ciotola così dovrebbe andare bene poi andiamo ad aggiungere lo zucchero non tantissimo e andiamo a rimescolare e andiamo a rimescolare una volta raggiunta questa consistenza mettiamo in freezer per un paio d'ore ed ecco qui ed ecco qui ed ecco qui lo slime secondo me secondo me onestamente ora va a rimanere di più in freezer però mi rimane troppo pastoso cioè non è venuto quindi non lo so purtroppo non è venuto mi raccomando lasciatemi la vostra ricetta con il dentifricio così ne testo altre perché questo è un fail alla prossima